buongiorno ragazzi qui è just easy che vi parla e questo è un piccolo update degli eventi anzi dei non eventi che hanno anche abbiamo saltato fino adesso io e schizzo 95 full allora la situazione è questa io sono ancora a casa senza lavoro come al solito come prima fortunatamente da quello che ho capito però il nostro amico schizzo 95 full ha trovato un lavoretto penso fisso manda mandiamogli la buona a meno che come al suo solito non mi stia tirando cazzate non perché io lo conosco voi non lo conoscete ancora ma è noto per essere un gran burlone se così si può dire che dice tre quarti di cose cazzate una vera speriamo che questa sia quella vera che vi sia andata bene quindi che abbia trovato suo lavoro va bene passando alla questione live radio la questione è le live purtroppo le ostava lui quindi finché non si è ancora sistemato con questo lavoro e ha un po' i migliorari casinati e quindi purtroppo le live salteranno molto spesso per quanto riguarda la radio che ero io che la ostavo purtroppo adesso sono rimasto da solo se volete le radio comunque io le porto così magari avremo anche un pochino più di come posso dire dell'interloquio privato se si può dire così tra l'altro di noi in tetta tetto ecco io e voi e la la come si come che era la rubrica di lol la stavamo per far partire la farò da solo se dovesse essere se no sebbene sebbene ritorna il nostro compare la facciamo in due e per quanto riguarda le altre notizie erano la parte di schizzo purtroppo verranno non dico tagliate ma magari io le farò in sondina perché a parte le idee le notizie che interessano a me nel mondo dei videogiochi lui era quello più sugli fps io ero quello più sul gdr era il completo del colo però purtroppo così è andata niente fatemi sapere anche sotto i commenti e adesso tenterò perché io con i social network che faccio veramente schifo perché non sono mai stato abituato a utilizzare social network però tenterò di mettere in descrizione il mio twitter e forse forse dico anche il mio facebook secondario e la posta per il canale così se volete mandarmi dei messaggi durante le live o se no se volete mandarmi delle richieste per le canzoni o delle richieste per la rubrica di lol delle richieste vabbè dopo comunque per la rubrica di lol appunto farò degli stroopoll quindi voterete direttamente la io prenderò quello che ha ricevuto in video cioè farò farò la lore e anche spiegherò il campione che ha ricevuto più o tre più voti quindi quello lo farò con lo stroopoll per il resto niente siamo qui cosa vi voglio dire? nient'altro quindi arrivederci ragazzi buona giornata ciao